Questa è la storia di Kevin e il cocai Triestin. Prima parte. Mi chiamo Kevin, sono un cocai Triestin e sono nato sui coppi di una casa. Sono appena venuto fuori del luogo e con una fama maledetta. Questa qua è sola da mia mamma, ma pare che non mi interessa niente di me. Ma pare che sia ora di pranzo e mi dice che andrà a ciorme qualcosa. Si si, la dici, la dici, ma la sei sempre qua. No no, la vuole via per me. Si si, la sei stata brava, finalmente si mangia. Ostia che buono, questo deve essere un tocco di panno. E così che mangiamo, che se vengono voglia di contarmi la nostra storia. La storia dei cocai di Triestin. Favaria che i nostri vecchi, i viveva in mare e mangiava le scovasse di vapore. Ma dopo il 54, a Triestin arriva sempre meno vapore e non era più cosa mangiare. E così, tutti i cocai si andavano in fulania a mangiare la roba delle campagne. Ma i fulani non hanno più voglia di sarpare la terra. E si hanno fatto siori vendendo tutte le campagne e non era più cosa mangiare. Insomma, non si trova più neanche una panoccia. E se così tennosi, che si hanno collegato anche i bidoni delle scovasse. Per paura che le robi. E così, tutti i cocai si vengono da Trieste. Perchè se viene veci che le dà di mangiare. A presto. A presto. A presto. A presto. dopo un poco mi mamma senta da via e la migraia salvo solo ma profiterò per cercare di volare se troppo difficile provarò di nuovo nel prossimo clip